DEF CON 1 Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo episodio della PIXEMON con Dad e Meg Ciao Ciao Ok, non so perché qua c'è la lava ma dettai poi lo facciamo capire dopo Emerald? Emerald? Si arrivo arrivo tipo Poi ti parti un attimo In pratica è spanato un leggendario di nuovo Dove cazzo stai? Eccolo qua Oh, leggendario Master Ball Si ma la Master Ball adesso dovevo tenerla eh Ma cosa vuoi? Eh si perché devo prendermi Zapdos No 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 no, per Mewtwo Devo fare l'episodio con Mewtwo mi dispiace Ma Penso che sia già tuo No no no, spawnano così Non è tu Ma è un pacco mega galattico allora Eh no Eh no È come se lo cloni ti spawnano In Allora La fa andare a Charizard Questo è pure vero Non funziona Veni Venite Ma che Cristo Ho un leggendario Anch'io Adesso andrà al posto di Gendar Quindi Gendar Kitty si in cula Vai morire nel box Allora comunque ragazzi Oggi cosa facciamo La cloning machine Esatto Oddio Hanno aperto il portone Io pensavo lo stesso 166 Che sono rumore Chi c'è un terremoto in casa Era il mio portone Capisci Io penso fosse il terremoto Allora Cloning Machine Si fa Allora io faccio i green tank Non sono stato io Allora Dividiamoci i compiti Ok Allora Meg premi la G Ok Perfetto Ma Meg è inutile Perché fai graftare Meg No aspetta Vuoi far durare l'episodio tre ore Ok Allora No Scrivi Scrivi cloning Dovesti trovare cloning machine Ok Yep Perfetto Clicca ci sopra Meg cloning C L Lo so Ok È formato da tre pezzi Yep Allora Io faccio Il green tank Tu fai quello al centro E te fai l'orange tank Ok Va bene Orange tank È bello Mi sono portato avanti E io ho già una poste Il machine Ah Mi serve un'altra Di fossi machine Ne ho fatte due GG Passano Perché qualcuno L'aveva Inculata nel mondo Eh no Devo farlo io L'orange tank Anche nel mio serve Ah non è un cazzo vero Sì Due Il green tank E ti in culi Te la fai da sola No no Passa Ma sti cazzi Dove trovo dello Perché la dovrei rifare io Vaffanculo L'ho ripreso Ma sei uno Vaffanculo Ok E già una cosa in meno Io che devo fare È l'orange tank Sì Allora mi serve l'alluminio Alluminio 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 E alluminio Fatto Tieni Cloner Ok Ho già fatto Che visto Cioè Dada Prendito Beh è perché Non viene negli episodi Da un sacco di tempo Quindi Capisci Deve fare tutte le cose Assieme Ok Eh Ma anche serve Dell'ossidiana Che me la vuoi prendere Per favore Eh vedi che ci sono 19 pezzi da dentro Eccoli Mi sono organizzato Prima di fare l'episodio A differenza di qualcuno Dove l'alluminio Alluminio Perché c'è una Crusher Di T-Nor Boh Dove la metto Crusher T-Nor Eh Non lo so Forse perché Stavamo cuocendo E mi sono rotto le palle Ah Quindi vado a te Non so L'alluminio Non c'era tu Date No io ne ho solo Cinque pezzi Però vedi che Ci ne sono altri C'è tipo uno Stockly Ok Oddio Io faccio Volvere Pikachu Voglio Raichu Perché non funziona Cioè bisogna mettere L'alluminio Ingot Nella crafting Giusto No lo devi schiacciare Eh col martello Giusto Eh Ti Perché non c'è Ah perché forse Non me lo fa fare Ma Io c'è l'alluminio Ingot Perché non me lo fa fare Ti ho preso Tutto all'ossiliano Io La lui Andamene Un attimo Eh Ma te te l'ha fatti fare I cosi Devi martellare Qui Ah Nella Martellare qui Martellati i coglioni Ma diventi Ok Ti ho detto Sorella Dei aspetta Adesso la chiamo Sorella Vieni a martellare Gesù Eh no Sorella Ah Due Due Oh Oh Gesù è stato martellato Sulla croce Ma Cosa È bello Anche io voglio No No Che cosa Poi chiamiamo Mani Cyrus Date vuole essere Martellato Allora ho fatto L'orange tank Ma poi Mag ha fatto Il clone Eh vabbè Gli hai fatto fare La cosa più idiota Magli Facciamo il cazzo Che l'aveva già fatto Non ci voleva niente E metti martelli Coglioni In video No Andatevi a vedere Le play in olympic Ah Ah Perché abbiamo Un lago di là Aspetta Un momento Tu perché Magli Ti fai a Così Mica le conosci Oppure sì Eh sì No Hai partecipato A pure tu Non credo Ho troppato qui Sì ma io penso Che dovremmo Tipo dormire Perché altrimenti Sti cosi Col cazzo Che funzionano La batbox Si sta svuotando Ah bene Quante ne devo fare Ancora Di sti roby Mille Ah no Tra hai già fatto Ok dove sono gli smeraldi Non lo so In la scelta Dove ci sono Anche i diamanti Uno e due Opla Prendiamo L'altro ti serve Ossidiana No 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 Già l'ossidiana Ok passami gli altri pezzi Io ne ho uno Ok uno qua Ok Devo sapere che poi si scassa Sta cloning machine Lo sapete Sì lo so Che puttanato Ah bene E' un buon pacco Ok andiamo Ma guarda caso Di chi sarà Miu tu Mio Perché La master pole è la mia No 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 Non ci rompere le palline Ma chi ti si in culo E' mio No 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 Sì sì Ti attacchi al cazzo No tu ti attacchi al cazzo No Mio l'ho preso E' mio inventario E' mio E' mio Dai allora vediamo Chi lo cattura con le ultra No 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 Mi hai fatto un cazzo Dad Passa la master Perché era pure la mia Ma chi ti si in culo Cosa era la tua Tu hai catturato E' un mio io Ma chi ti si in culo Dammi la master E io niente Ma chi ti si in culo Dammi la master No E non li dicate che vi faccio squagliare nella lava Dei metti il No La colonna machine Vediamo chi infila per primo Miu Chi infila per primo E prende Miu Detta così è più bruttissima Per un attimo serve il blocco di diamante Dei fare anche un blocco di ferro Un blocco di ferro Ma il blocco di diamante mi sa che non ce la facciamo Ferro 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 Non c'è ferro Ah no scherzo No vabbè Abbiamo pochissimo ferro Meglio in caverna Vai date si è arrivato tardi Ma il ferro che cazzo serve Che cazzo dobbiamo fare con i blocchi Ah dobbiamo inserirli Ma non me lo fa mettere Aspetta un attimo L'ha messo Ma ce l'ho ancora Vabbè L'ho messo io Non ho capito Non più affanculo Allontanati Ah c'era un po' l'idea che puoi uscire il ditto lo sai Ah si io spero ti esca ditto Ci godrei un sacco probabilmente Non ci credo ci do il ditto Ditto Sul serio? Si Godo Oh godo Eh non ridammela la master ball No 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 Non sei pazzo Non spiegare la master ball con ditto No ma sei scemo Un attimo L'ho ammazzo Bestia io Oh non si è rotta Figa Dammi la master ball quindi va a me Eh meme lo sai che hai perso Mew No Si Eh guarda l'ho appena messo What No aspetta non l'ho capita sta cosa No è quando c'è Mewtwo che si rompe Ah figa Ah esplode Oh c'è questo Cosa? Questo è mia Madonna Ti sciocco Eh mi sa che esce di nuovo ditto Esce di nuovo ditto Boda Ah aspetta Forse si devono mettere tre blocchi di diamante per farlo uscire Eh l'ho fatto Eh tu ne hai uno di blocco di diamante però Ma cazzo vuol dire? Eh No ma io quando abbiamo fatto nella prova abbiamo messo blocchi random lo sai? Te lo ricordi? Eh ma eravamo in creative Cazzo vuol dire? Eh Ok a caccia di diamanti tipo Mag Eh Diamanti? Sì Sicuro Vediamo Ah aspetta No dobbiamo fare anche quello d'oro Dobbiamo metterne tutte e tre forse Ah ok aspetta Non che sto cadendo nella lava Uh quanto è? Sì Ti avevo tutto un cazzo Ah faccio io No voglio il pony assolutamente Allora metto io i blu e i due e tu metti il terzo Ma l'ho scattato vaffanculo Forse si devono mettere in ordine che cazzo ne so Allora prima quello di diamante Messo Quello d'oro E poi quello di ferro Fatto Ma Ma Va Vabbè Meg vieni a provare la macchina Vedi se scoppia in faccia a te Ma No Noga Ma che cos'è questo? Oddio che orecchie che c'ha Vitto Ma perché? Che succede? Ammazzalo tu stavolta Dai te lo ammazzalo due volte Beh come si fa Ammè esce fuori Che cazzo ne so Ah no basta Sì sì Oddio io quasi quasi lo catturo Che non lo ho shot Ok la cattura Back Ultra Poglio Ma poi Vabbè Ditto non serve un cazzo Mi sa Oh aspetta Perché non mi fa mettere Mew What? Aspetta Perché sto ancora combattendo con Ditto Vai prova adesso No Ditto troppa la slime Mi dice You have nothing to clone Mi sa che si è fottuto Mew No Mew ce lo fa Sì aspetta ci provo io Dammi la master pool E dammi il blocco di diamante Metti Mew Fatto Spiazzo qua Blocchi di diamante Tutto Cioè tu Tutto e tre Comunque è strana stavolta Perché mi ricordo Ti rilevavo i blocchi Adè ma adesso Tu e mio Perché Mew E il mio Qua dentro Chi ti si incula Ma anche io lo voglio Mew Chi si incula Mek No io non vorrei che tipo Dopo un dotto Non ti fa più inserire Non ti fa più inserire Mew Di nuovo questo Ma che è sta cacca Cos'è sta cacca rosa Di nuovo Ditto Ma È una cacca rosa Qualcuno ci dirà come funziona Questa macchina del cazzo Oddio perché ti ha spawnato Chihazard dalle spalle È perché Ha ucciso Ditto Ah No vabbè Ditesci come Minchia funziona Sto schifo Vabbè No la teniamo qua però La specie di Non so Cos'è Vedo un boss Vedo un boss Vedo un boss Vedo un boss Va bene ragazzi Allora questo episodio Te lo finiamo qua Abbiamo fatto Un piccolo fail Vaffanculo Comunque Se sapete come funziona Di preciso sta roba Ditecelo nei commenti Eh Emery dammi la master ball Perché è la mia Quale master ball Lo sai posso ucciderti Se non lo fai Ha catturato il mio Con la master ball Come catturato te Cos Non lo so Non ho Perché si riferimenti Vabbè Niente ragazzi Vi saluto Ciao a tutti Ciao